Oggi 10.10 si restaura a Saronno il Padre Eterno nel santuario in cui operarono due Giulio, Giulio Romano e Giulio Antonio Amadeo Architetto, come me Romano Antonio Amodeo Architetto, in cui A uguale O, A mode O. Il santuario di Saronno, patrimonio dell'umanità, è di Giulio Romano e di Giulio Antonio Amadeo Architetto. Giulio Romano, creatore del campanile Arto 47 metri, laddove 47 uguale a modeo, e il progetto dell'Antonio Amadeo Architetto. La statua a linea del Padre Eterno, recentemente smontata, è restaurata. Sono iniziati l'8 ottobre 2014 i lavori per il riposizionamento della statua a linea del Padre Nostro nel santuario alla Beata Vergine dei Miracoli, riconosciuto patrimonio dell'umanità. La scultura era stata rimossa dal centro della cupola lo scorso 9 luglio e immediatamente erano apparse critiche le condizioni di conservazione. Per le aperture verso l'esterno della cupola, entravano piccioni che avevano ricoperto tutto di guano. L'intervento è stato complesso, non solo per le grandi dimensioni della scultura, il cui diametro è di due metri, ma anche perché assemblata da diversi pezzi. I pezzi tra cui la testa sono stati ripuliti e restaurati presso il laboratorio di Parabiago. Per la complessità del ripristino, la zona dell'altare è stata per ora inibita ai fedeli. Ora, osservate qui il marchetto, il logo del santuario, che si riferisce alla M della Madonna e alla R di Miracoli. Essa trascende in modo lampante R.A.A.M. Romano Antonio Amodeo, uguale 47, architetto, che trascendono le due G iniziali di Gesù per Giulio e che crearono uno, il campanile, l'altro l'opera. Giulio proprio indica in un modo grandioso Gesù, perché in Gesù c'è Su, il genitore Geova, mentre Giulio rimanda virtualmente all'io umano da tenere giù. Ecco, qui, per quello che sta accadendo a Saronno, tutto attualmente è in ripristino. nella mia chiesa di San Giovanni Battista qui a Casina Ferrara è ancora inagibile la chiesa perché si sta rifacendo interamente tutto il pavimento e la chiesa non è ancora agibile. Allo stesso modo è il santuario che, per come vedete, è proprio, perfino nel logo, trascendente una condizione di eccellenza che accade qui a Saronno. la Beata Vergine Maria dei Miracoli è un santuario che celebra da ben 400 anni un miracolo grandioso che accadde e salvò dalla peste tutta la zona del Saronnese, tanto che da allora e per 400 anni in ogni periodo prestabilito ci sono tutte le processioni che partono da tutti i paesi del circondario e vengono al santuario della Beata Vergine dei Miracoli proprio in riconoscimento e in riconoscenza di questo grandioso miracolo che accadde 400 anni or sono e salvò miracolosamente dalla pestilenza proprio il Saronnese. Ecco, io vi sto testimoniando tutto quello che mi lega personalmente e in modo allusivo proprio a Saronno. Perfino il marchetto del comune di Saronno si riferisce a qualche cosa di grandioso che è indicato qui, accaduto. Il 24-10-1999 c'è stato l'atteso convegno del 1000 e non più 1000 fu il convegno della fine del tempo della pienezza del tempo perché il 24 come giorno ha tutte le 24 ore di un giorno il mese 10 ha tutto il ciclo unitario dei numeri e il 1999 è l'ultimo anno del famoso 1000 e non più un altro 1000 nella sua pienezza. In esso furono erette le due torri di Dio la ragione unita alla preesistente fede in Gesù. Le due torri si vedono bene nello stemma del comune di Saronno sono le due torri rette sulla base di una sola la base comune è la fede ma le due torri messe sopra sono la fede e la ragione. Saronno è una città trascendente che per la prima n delle due presenti in Saronno che è la lettera numero 12 dell'alfabeto e indica un numero 12 ma che è uguale a 1 più 11 è uguale al 12 e sostituendo alla prima n quello che equivale a n ed è ma Saronno allude ad un sa romano ad un romano che sa ed è di Saronno ma proveniva da Salerno Salerno provincia di Salerno è nella sua sigla proprio S più A ecco vedete con chiarezza tutto questo inghirlandato come un sistema incoronato proprio nelle due torri della fede e della ragione che furono l'atteso convegno del mille non più mille atteso dalla religione che si aspettava la vittoria sulla morte e il giudizio universale e si trovò in questo convegno a ricevere tutte e due le notizie infatti la vittoria della morte fu dimostrata attraverso il fatto che per la vita che abbiamo già ora risulta che essa può essere in atto soltanto se dal futuro scende un osservatore dal futuro della morte e scende giù fino all'anno che è in corso ora per osservare poi la risalita da questo anno ossia da questo tempo presente fino al tempo della morte la discesa è spirituale come punto di osservazione la risalita è reale come la visione materiale ottenuta che è una visione fasulla però ottenuta sulla base della vera discesa in negativo che risulta da un 1 per meno 1 ossia azione per azione uguale a contraria uguale a meno 1 o se volete da un sì del no che è il no e il no del sì che è ancora il no questo mondo è no questo mondo no è e no è è chi salva il mondo dalla prepotenza di Roma e lo porta verso l'amor è quel mondo in cui un no dice no a Roma Roma no e dicendo Roma no si salva il mondo perché andando a dichiarare la nullità del mondo di Roma allora esso è convertito nel mondo dell'amor il giudizio universale fu proprio comunicato quel giorno in quel convegno e espresse un dio di totale salvezza che fa cominciare la vera vita nel punto zero più in alto che è raggiunto da ogni vita è da lì che parte come da un binario morto un vero percorso ed è da lì che il percorso poi ritorna la vera partenza da quel binario morto porta in un primo tempo tutta la discesa fino alla apparente origine in basso e quando finalmente è stata donata da dio tutta questa vita già bella è fatta l'uomo comincia a contrapporsi a dio e a restituirgliela risalendo fino a quell'anno di quella apparente morte in cui aveva avuto inizio veramente la vita e la chiesa cattolica lo sa che la vera vita comincia nel momento della morte la vera vita è come Gesù spiegò a Nicodemo scende dall'alto se non la vedi ancora fino a che non la vedi scendere dall'alto tu caro Nicodemo non entri nel regno dei cieli perché nel regno dei cieli ci si entra come un bambino innocente che è stato ricondotto alla sua infantile purezza e innocenza a partire da ogni tipo possibile di vita santa o disgraziata tutta ricondotta in potenza attraverso l'abbattimento divino di ogni potestà umana e della natura tutto sta rientrando in Dio e l'uomo porta in questo viaggio l'acquisito suo interesse e sarà grazie all'interesse ossia all'abito morale che ha assunto che potrà partecipare con il suo senso del gusto reale al banchetto della attesa presenza eterna delle nozze del figlio se l'uomo non acquisisce questo interesse perché crede attorto che Dio ha delegato all'uomo ogni gesto e ogni azione e dunque la vita non ha l'azione di Dio perché ce l'ha solo per delega l'uomo e è terribile Dio se l'uomo alla fine della vita l'ha perduta manda in un eterno inferno ecco questo giudizio era proprio di colui che aveva ricevuto un talento solo e credeva proprio che Dio avesse la sola funzione di raccogliere i risultati del lavoro altrui con un Dio terribile perché se in quel momento non si dà un risultato e si è persa la vita manda tutti all'inferno ecco chi crede questo è proprio simile a colui che aveva ricevuto un talento e gli sarà tolto per essere dato a chi ne aveva ricevuti di più insomma Dio è un totale salvatore che parte da una vita progettata in tutta la sua possibile differenza e riporta ogni differenza a quella assoluta uguaglianza nella innocenza e nella purezza dell'infanzia se se non ritornerete come bambini non entrerete mai e attraverso quel percorso si ritornerà realmente al padre passando per tutta la catena dei nostri padri attraverso i due genitori i quattro nonni e giù giù tutti gli altri fino a contenere per intero tutta la vita e il seguito della vita reale è proprio quello di una vita finalmente posseduta tale che consenta a ciascuno di essere il figlio di chi vuole essere e finché vuole esserlo se non si ama il prossimo come se stessi in questa vita reale e non si acquisisce il gusto perfetto per tutta la vita non si fruirà di questa vita che noi non abbiamo amato nel prossimo poiché nel paradiso l'estensione della nostra vita dipende solo dalla possibilità di gustare la vita oggi data agli altri come a noi stessi che in questa vita non ama il prossimo suo come se stesso tutto quel prossimo che non ama lo perderà dal suo possibile paradiso ecco la grande lezione e la differenza che il signore dà a chi ama in modo giusto e chi ama in un modo non così giusto però liberamente avendo consentito ad ogni anima un ideale più o meno grandioso poi tutti avranno lo stesso concerto divino perché ognuno sarà come uno che ha scelto di essere un solo piccolo strumento più o meno completo ma parteciperà con la sua libera partecipazione e tutto quello cui non arriva lui lo avrà attraverso la libera partecipazione degli altri proprio così come per esempio un suonatore di timpani che sta quasi sempre inoperoso e suona ogni tanto quando occorre riceve lo stesso risultato di tutta l'orchestrazione in cui il lavoro sarà fatto tutto dagli altri e dunque anche se l'uomo ha scelto una piccola parte nel disegno di Dio avrà l'interezza del disegno di Dio la gioia sarà questa farlo come propria partecipazione o vedersi portati dalla partecipazione altrui in questo c'è la differenza tra chi avrà avuto merito e chi ne avrà avuto meno chi si è sobbarcato della fatica spirituale di amare la propria croce avrà una grande soddisfazione porterà tutti gli altri nel segno della propria assunta croce chi invece non ha voluto proprio questo sarà portato e c'è una grande differenza tra partecipare con Gesù Cristo a portare al benessere tutti oppure semplicemente esserne portati dalla grandezza dell'anima altrui all'anima